Grande festa per l'Altino che torna in promozione vincendo per 3-1 contro la Virtus Pescara sul terreno del gioco dei Rivieraschi. Quest'ultimi per centrare l'obiettivo se la vedranno con il Luco dei Marsi. Pronti via e prima occasione Altino. Mustafà colpisce a colpo sicuro, la Virtus si salva in corner, i padroni di casa rispondono al quarto d'ora portandosi in vantaggio su Cross di Pesce. Tutto annullato per fuorigioco tra le proteste locali, crescono i biancazzurri, Bordoni prende la mira ma i Nardis manaccia in corner. Dalla parte opposta i bianco-verdi si portano in avanti ma è nella trovar sulla via del gol. Un super di Michele, il numero uno di casa, non può nulla sul colpo di testa di Mustafà. I pescaresi hanno una ghiotta chance alla mezz'ora, Deleonardis viene trattenuto, il vantaggio non viene concretizzato e Fiore di Teramo assegna la massima punizione. Dal dischetto cecchino, Bordoni non sbaglia, impatta il match. Nella ripresa ci prova ancora l'undici del duo, Dezio Stella, Grassi dai 25 metri, palla alta sopra la traversa. L'altino non sta a guardare, erroraccio difensivo Virtus, capitano Carunchio ringrazia e suggella il pesantissimo vantaggio. Prova a rispondere alla formazione Riviera Ascaio, metti in corna sul fondo l'undici ospite sciupe il capo a 15 dal termine. Chiarini funambolo svicola in aria, Di Michele tiene a galla i suoi, piove però sul bagnato. In casa Virtus Pescara di Marsilio sincunia e viene trattenuto dagli undici metri. Glaciale Chiarini con un cucchiaio alla Francesco Totti porta in promozione l'altino scrivendo una pagina di storia. Per la Virtus Siravo d'orgoglio non ci sta ma trova un incredibile salvataggio sulla linea. Appuntamento rimandato al prossimo turno per i biancazzurri per centrare il traguardo chiamato promozione. Grande festa in casa Altino. Sì, sì, è il giusto merito e sicuramente la società è concia che questo è un gruppo da cui si può ripartire, un gruppo genuino, un gruppo veramente fatto di uomini prima che di calciatori. La società troverà sicuramente grande appoggio perché ha delle basi solide per il prossimo anno. I giovani sono veramente umili e impareranno tanto dai più esperti. Ma no, è una decisione che ho maturato un po' di tempo fa. Oggi i ragazzi ne erano al corrente e mi hanno reso felice perché veramente hanno fatto una grandissima prestazione, hanno supportato me che era un po' che non mi allenavo con frequenza. Però devo dire che questo è un gruppo che merita veramente questa promozione perché si è sacrificato dal primo giorno e veramente ha versato tutto quello che aveva in mezzo al campo fino all'ultimo secondo di questa partita. Ma ti devo dire la verità, quest'anno non ho seguito molto gli altri gironi, la Virtus però è sicuramente una grande squadra. A tratti, all'andata abbiamo sofferto, abbiamo dovuto stringere i denti e quello è il nostro pane quotidiano. Ci siamo trovati bene a soffrire, anche oggi qua dopo l'1-0 si sono subito riportati sul pareggio. Hanno dei grandi giocatori, sono guidati da un duo veramente competente e secondo me possono dire la loro in questa finalina. Sì, oggi è amara, amarissima purtroppo, perché il campo ha dimostrato chiaramente che sia una squadra che gioca a pallone a un certo livello. Il problema sono stati gli episodi e quello del 2-1 purtroppo ci ha condizionato perché ovviamente in quel momento nel quale stavamo attaccando molto di più di loro, prendere golle e sapere che ne devi fare altri due diventa problematico. loro sono molto bravi a chiudersi, sono stati molto bravi nei due partiti a fare la fase difensiva e quindi ovviamente la cosa ci rammarica parecchio perché pensavamo di poter arrivare almeno a fare un altro gol e invece purtroppo l'errore difensivo ci ha tagliato le gambe. C'è da soffrire ancora un po', purtroppo il caldo non ci aiuta e siamo stanchi anche a livello mentale perché arrivare fino a questo momento della stagione ci porta via tante energie. Purtroppo dobbiamo giocare questa partita perché avremmo preferito non farla, ovviamente. Oggi purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà che è quella che purtroppo ci sono altre due partite da giocare sperando che almeno in quelle riusciremo a portare a casa l'obiettivo. Onore ai vincitori, sono stati bravissimi tutte e due le partite, sono stati molto sportivi lo voglio dire perché difficilmente troviamo degli avversari in giro con questa educazione cosa che invece per esempio, lo voglio pubblicamente dire, l'arbitro oggi non è stato educato si è atteggiato a super uomo nei confronti della panchina parlando con dei termini che sono più che altro da scaricatore di porto. Lo voglio far presente, lo faccio presente tramite la società domani mattina all'Aiali Teramo perché è una cosa che non mi cala perché nessuno qua si è potuto permettere di dire una parola perché ci ha aggredito verbalmente dall'inizio alla fine combattendo degli erroracci se avete visto il gol in fuori gioco che poi hanno ammesso a non essere in fuori gioco dell'1-0 che ci portava in vantaggio e cambiava la partita ovviamente quindi purtroppo queste sono quelle cose che fanno male meno male che ogni tanto vediamo pure degli avversari che sono persone serie, sportive ed educate che insomma ci riconciliano un pochettino con lo sport.